buongiorno a tutti allora 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 dopo avervi parlato del gran premio in olanda andiamo a parlare del gran premio di germania di moto gp piano piano ne facciamo tutte lo so siamo in arretrato voi sapete già tutto sapete come andata eccetera eccetera ma io per correttezza per comunque sul mio canale ci devono essere tutte le gare eccetera e quindi piano piano recuperiamo tutto nell'anno prossimo sarà uguale fino a non farò in tempo a iniziare il che dice al gran premio che poi dice il trabacco e il tempo poi è tirando non riesco a vedere le gare umana vedere poi c'è il calcio da seguire ci si entriamo del club della della champions del club del campionato quindi ci sono una marea di video da fare io sono anche impegnato con il lavoro per il sole e quindi ragazzi miei farò quello che posso però adesso che sono free andiamo a recuperare tutte le gare quindi partiamo subito col gran premio di germania sprint e vediamo com'è andata perché ha vinto orge martin quindi parte bene la settimana o il weekend per orge martin che vince la sprint davanti a olivera bagnaia e quindi recupera un po di punti su bagnaia si sfugge quarto posto per la bestia bastianini quinto morbidelli il sesto bar marquez settimo vidiale sottavo bidder nodo ales marquez e e decimo bezecchi che lo becca da beata giovanna di punto perché con il decimo posto non vinci nulla solo nono prende il punticino ma prima di parlarvi di come è andato il gran premio vero e proprio non la sprint che sono sempre punti è il primo se ne prende 12 o 3 di 12 se non sbaglio è che sono punti non è che fanno schifo 12 punticini potrebbero fare la differenza in un mondiale andiamo a vedere la griglia di partenza col bronco di riace che mi stressa come sempre i testi non c'è speranza oggi è così allora io sono a casa tranquillo non devo fare video non devo fare niente mi guardo video su youtube guardo le gare di moto gp fazzoletto non lo uso inizia a fare i video lui deve rompermi le balle e continuare a farmi lo starlo tiro soffiare il naso vale comunque griglia di partenza del gran premio di germania prima fila orge martin olivera raoul fernandez seconda fila bagnaia ales marquez e borbido borbidelli terza fila vidi ales di gian d'antonio e bastionini da bestia quarta fila per a costa bidere bezzecchi e quinta fila per mar marquez quarta laro e augusto fernandez anche stavolta mar marquez deve partire da casa sua vediamo come è andato il primo giro di questo gran premio di germania primo giro con diversi sorpassivi ma fortunatamente senza incidenti con il solito due il fantastico due ormai chiamiamolo così orge martin davanti a magnaia ormai sono loro due poi c'è il resto del mondo meno male nessun incidente perché in olanda un rischio e decolla e si rompe tutto perché se rotto polso e caviglia fortunatamente non si è fatto male nessuno nessuno è caduto eccetera eccetera primo giro classifica orge martin davanti a magnaia olivera ales marquez morbido borbidelli vidi ales raoul fernandez che già sceso in settima posizione bastianini che è sceso in ottava non è salito adesso bastianini dove era aspettate che controllo un attimo che il controllo recuperato una posizione cella bar bar che se già salito in donna posizione dalla quindicesima tanta roba quindicesimo tredicesimo a quel che era evitare decimo era il quale quinta fila quindi tredicesimo dono o male secondo giro intanto borbidelli passa in quarta posizione mentre bagnaia passa subito martin e borbidelli a sua volta supera olivera e va sul podio ma la gara ragazzi miei solo all'inizio siamo solo all'inizio 30 g 30 sembra il cucciolone otto borsi questi su 30 giri certo sono giri di un minuto e 20 circa un minuto 21 minuto e 22 non sono giri da un minuto e 50 però 30 giri settimo giro risposta di orge martin che ripassa bagnaia e si riprende la prima posizione intanto vignale sva dritto e finisce della ghiaia rientrando ahimè per lui in diciottesima posizione adesso dovrà ricostruire tutto e cercare almeno di entrare dei 10 il tempo c'è siamo solo al settimo giro però sei finito della ghiaia le gomme si rovinano devi fare la rimonta le gomme si rovinano poi bisogna vedere come andrà dono giro borbidelli passa bagnaia e si prende la seconda posizione facendo un bel favore anche a orge martin che così qualche punticino in più lo recupera su sul pilota italiano decimo giro purtroppo saluta la gara di gianantonio che rientra messamente ai boss e guarda la moto per capire che cacchio è successo perché boh alla fine hanno scoperto che ahimè era una foratura foratura posteriore e lì è sfiga ragazzi lì è sfiga perché sai chi si rompe la moto e sfiga sempre però ci stava la moto che fora 15 esilo giro bagnaia passa morbidelli e si riprende la seconda posizione alle loro spalle bar market supera olivera e adesso va a caccia del fratello e chissà cosa succederà poi tra fratelli se alessi dice prego fratellone vada pure io non mi permetto di visto che comunque sono della stessa ducati oppure ero ciccio te la devi guadagnare la posizione io mica te la do come direbbe sempre la mia amichetta io mica te la do e va bene farò meno classifica quindicesimo giro prima primo primo orge martin davanti a magliaia ormai se non è zuppa e pampagnato terzo morbidelli quarto alessi market quindi bar market sesto di vera settimo la bestia bastianini ottavo raul fernandez nono a costa e decimo binder al dici settesimo giro ales market spassa morbidelli e sale sul podio quello basso naturalmente il terzo terzo posto mentre subito dopo bastiani di supera libera e sale in sesta posizione quindi doppio sorpasso dello stesso giro di due piloti diversi e non dello stesso al 22esimo giro si toccano pesantemente le moto di morbidelli bar market ma fortunatamente restano in sella e le moto non hanno grosse conseguenze anche se qualche pezzettino e salta perché praticamente uno va largo l'altro va stretto e poi tac tac ha fatto proprio tac così no uno rientrava l'altro stringeva e si sono sono beccati in mezzo alla pista più o meno poi però sono rimasti in piedi tutte e due tutto a posto niente di che un diciamo un disguido se vi permettete il termine al ventitresimo giro bastianini attacca bar markets fanno un paio di curve affiancati ma il pilota spagnolo riesce a tenersi la posizione quindi culo di fianco all'altro poi naturalmente uno aveva la curva interna una volta dopo ce l'aveva quell'altro però sono rimasti di tutti e due col per play nessuno dei due che andato a rompere le scatela all'altro lasciando lo spazio per fare le curve quant'altro non cercando magari di buttarlo fuori pista quando aveva la curva interna e alla fine ma spuntata il più esperto ragazzi miei voi sapete benissimo la mia idiosincrasia se vi permettete il termine comunque la non simpatia per bar markets però quello è soggettivo oggettivamente lui è tanta roba c'è perché bisogna imparare ragazzi miei quando si dà un giudizio a tenere separata la soggettività dall'oggettività se tu pensi che uno usa uno ti sta sulle balle ti sta sulle balle non può esserti simpatica anche se un campione ci sono campioni che uno dice io tifo quello lì perché mi sta simpatico eccetera eccetera poi vedi un altro dicevo io abiro quel per vista sulle balle ma quando do i voti io devo guardare l'oggettività non la soggettività se uno fa una buona gara fa vince lo applaudi anche se ti sta sulle balle se uno fa una pessima gara arrivava male eccetera eccetera però ti sta simpatico non per questo devi dargli un voto comunque sufficiente perché ti sta simpatico da di devi dare un voto brutto ma quella è l'oggettività poi soggettivamente uno può pensarla come vuole essere bravi non è facile comunque ventitresimo giro l'abbia già detto e andiamo avanti perché vi ero perso 26 esito giro mar marquez passa morbidelli e si prende la quarta posizione e adesso anche bastianini prova a passare il buon morbido che però resiste e resta attaccato a mar marquez dice ciccio stai dietro che adesso io vado a riprendere quello là si impara a sorpassarmi al 27esimo giro bella sfida tra bastianini e morbidelli con il morbido che resiste per quasi mezzo giro con sorpassi e contro sorpassi quindi già questo fa libidine per quanto riguarda la gara e poi ragazzi miei al 29esimo giro arriva quello che non ti aspetti quello che non ti aspetti quello che non ti aspetti perché orge martin finisce nella ghiaia e regalano letteralmente la vittoria bagnaia e il primo posto della classifica di compa del mondo scivolata classica il buon guido veda detto è vero ragazzi miei a avere dietro uno sempre a mezzo secondo che si avvicina si avvicina si avvicina e tu devi spingere sempre di più per tenerlo sempre a debita a distanza alla fine della fiera vai fuori giri e rischi di finire fuori è un po' come quei teddisti che giocano hanno lo stesso gioco solo che uno è più forte dell'altro poniamo due tra virgolette terraioli tu affronti tu sei un giocatore che ama giocare da fondocampo colpire forte da fondocampo affronti il numero uno di quelli che giocano come te quindi è più bravo di te cosa fai cerchi di tirare più forte però come si dice di solito la potenza è nulla senza controllo magari all'inizio riesce a resistere ma furia di dai e dai comincia a tirare qualche dritto fuori di qualche centimetro è uguale delle moto quando tu hai uno che ti soffia sul collo prima o poi il rischio errori lo c'è e quindi hai beh orge martini scivola 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 si capitava anche a bagnaia non è che capita solo a orge martin perché è arrivato un attimino dopo bagnaia del circuito quindi magari tra virgolette è un pochino vero esperto capita anche a bagnaia l'anno scorso bagnaia faceva vittoria caduta vittoria caduta vittoria caduta davanti così quest'anno però c'è un orge martin che è bello carico al 29esimo giro bar marches passa il fratello aless ed è secondo alle loro spalle bastianini alla fine ha vinto il duello tutto italiano con borbidelli dove la rossa ragazzi miei fa doppietta del senso olanda germania non fa doppietta stavolta perché la spesa vita il bon orge martin però fa il pieno di punti perché si cucca un più 25 su orge martin che ha buttato via la vittoria perché comunque aveva un mezzo secondo abbondante so bagnaia quasi era più un secondo che lo bezzo anche se bagnaia si avvicinava poi si adottava che era lì lì 6 7 8 6 7 8 6 7 8 decimi però devi sempre spingere 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 se no ce l'hai addosso poi si scivola e quindi bagnaia vince il gran premio di germania ma passa al traguardo così alla all'arerio non si è messo forse si è messo anche in piedi e si è messo in piedi così a bandiera perché comunque aveva un vantaggio mica da ridere sugli altri e alle sue spalle abbiamo i due fratelli marquez con il più anziano chiamiamolo così davanti al più giovane secondo e terzo posto per i fratelli marquez e via via tutti gli altri con bastiani di quarto la bestia quarta borbidelli quinto olivera sesto a costa settimo bezzecchi ottavo bidder nono e il buon raul fernandez al decimo posto non mi sono ricordato di fare la classifica dopo questa gara chiedo media va bene bene vi farò riepilogo nella prossima comunque se non ricordo male il board bagnaia dovrebbe essere riuscito ad avere una quindicina di punti in più più o meno perché col fatto che ha perso i punti era 10 punti di distacco della scorsa erano 200 190 dell'altra gara lui ha perso tre punti credo perché 12 a 9 quindi tre punti in meno per la sprint ne recupera 25 quindi dovrebbe avere una dozzina di punti in più di di orga e martini in classifica quindi da qui squiglia vedremo nella prossima gara che non so ancora qual è adesso andrò a vederla cosa succederà chi vincerà se se continuerà al trend dove c'è il 263 terza vittoria di bagnaia voi lo sapete già io no o se magari a orga e martin risponde e vince lui la gara poi bisognerà vedere poi bagnaia cosa farà sia della sprint che in questa gara e se sarà sufficiente la vittoria magari oggi martini tutte e due le gare per tornare primo se bagnaia standogli appiccicato come una cozza allo scoglio mantiene lo stesso primo posto in classifica per un punto vedremo vedremo ci sono ancora una marea di gare da recuperare piano piano come vi dicevo le farò tutte e spero di farcela è su best possible così poi possiamo dedicarci solo alla formula 1 come vi dicevo una volta che ho finito moto gp e formula 1b dedicherò allo sci registrerò tramite eurosport le gare perché col fatto che dobbino vita nessuna garanzia rai play io ero tranquillo perché gli anni passati rai play mi dava gli ultimi tre stagioni di sci ma adesso hanno cambiato tutto un'altra volta e c'è solo l'annata di adesso ho provato a vedere magari del della barco adesso proverò magari a vedere della barco che abbiamo la barco delle techerai dell'archivio se magari magari c'è la stagione 23 24 di sci e magari riusciamo a recuperarle perché ero tranquillo dico tanto rai play tre anni gli ultimi tre anni delle gare di sci bene lasciano e basta negli ultimi tre mesi guardo e non c'è nulla ci sono rimasto guardate malissimo perché ero tranquillo detto per vi vedo le copi sono anche iscritto a rai play per poter vedere direttamente sul televisore non al computer le gare così le vedo anche meglio no non me le ha tolte ci sono rimasto molto male ma magari ci sono solo io che sono imbranato che non riesco a trovarle proseguirò delle ricerche comunque perché non mi dispiacerebbe a riuscire a raccontarvi anche le gare di sci e non farvi solo il resocontino ludo e crudo della stagione 2023 2024 delle gare che non ho raccontato eravamo arrivati all'11 12 di gennaio di quest'anno delle gare che vi ho raccontato le altre ho detto bene faccio con comodo come ho fatto un anno precedente e invece sfrank vabbè ragazzo li lasciamo perdere perché qua si parla di moto gp e naturalmente ci vediamo al prossimo video che non farò oggi ve lo dico subito per oggi chiudiamo qua perché sei video vi ho già lesionato abbastanza i testi sono poi mi dite gg dove esagerare che ne fai troppi ciao